E' tutto, l'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della terra. Hanno conquistato la vittoria dopo una partita impeccabile e hanno mostrato spirito di squadra, mentalità e grande personalità. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Grazie. 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 Grazie.